Ciao Mattia, che partita è stata dal campo? È dura, è bella perché vincere così gli ultimi minuti è una bella emozione, forse anche doppia, però era fondamentale, lo sapevamo, quindi è stata una battaglia, penso una partita non bellissima ma equilibrata e alla fine penso che comunque con un guizzo di Milan è giusto che abbiamo vinto. Un'ottima difesa, avete combattuto su ogni pallone, avete anche imposto il vostro gioco, come l'hai vissuta tu? Sì, sicuramente, lavoriamo tanto in settimana, tutti quanti noi per fare un'ottima fase difensiva non parlo soltanto della linea ma di tutta la squadra che ci facilita se pressano come hanno pressato oggi o come in tante altre partite, quindi siamo contenti, non abbiamo preso gol, Salva ha fatto anche un paio di grandi parate, quindi siamo molto felici. Senti, uno stadio che canta per 95 minuti, come lo si vive dal campo? No, è spettacolare, è spettacolare veramente, li ringraziamo perché ci stanno accompagnando in questa rincorsa che sarebbe qualcosa di incredibile, però li ringraziamo davvero col cuore per il sostegno e già dalla prossima partita che è abbastanza importante, sappiamo che saranno sempre a fianco nostro. Chiudiamo proprio con quella, sabato c'è un'altra partita importantissima, un derby che vale sempre tanto ma in questo caso forse vale ancora di più. Sì, sicuramente, venendo la classifica è un derby che vale moltissimo, lo prepareremo già da domani, stasera dobbiamo cercare di recuperare le energie e godersi anche la vittoria perché ne avevamo bisogno e poi da domani testa subito alla Samp. Grazie Mattias. Grazie a voi.